Sindaco, comunque, riunione del lanci nazionale, crateri sismico, quattro regioni, come al solito non c'è una soluzione, non c'è neanche il commissario. La soluzione è ovvio che è difficile, comunque è stato sicuramente un incontro parzialmente positivo, perché abbiamo per fortuna alcuni sindaci, ma anche il nostro capofile, Gian Guido d'Alberto, ha espresso durezza nei confronti del governo e nei confronti del commissario, preannunciando a quello che alcuni sindaci, da cui il sottoscritto gli aveva detto, di depositare anche le fasce dove il territorio non ascolti i sindaci. Quindi ci sono stati gli interventi forti dei sindaci, giustamente adesso diamo del tempo al governo, se c'è qualcosa di concreto va bene, altrimenti io sono disponibilissimo a ridare la fascia al prefetto, in modo che la responsabilità deve essere assunta tutta dal governo. Siamo a tre anni da sisma, faccio un esempio per Torricella, noi abbiamo circa 400 inagibilità, solo otto pratiche approvate. Quindi qui c'è un fallimento, un fallimento non può essere che un fallimento del governo. Il presidente del Lanci Nazionale, De Caro, ha detto che non saranno soltanto 100 sindaci del cratere sismico, ma 8.000 sindaci di tutta Italia a protestare. Sì, mi è piaciuto molto l'intervento del presidente nazionale, il quale si è schierato in maniera forte con i sindaci, dicendo che ove la voce dei sindaci del cratere non venga ascoltata, porteremo a Roma tutti gli 8.000 sindaci. E questo è stato un buon intervento che ha ricevuto anche un plauso dell'intera assemblea. Non mi è piaciuto invece il sindaco della regione Marche, il rappresentante del Lanci Mangialardi, il quale naturalmente ha espresso un assenso alla politica del governo. è una cosa che mi è dispiaciuta perché la politica è una cosa e il sindaco è un'altra cosa. Noi dobbiamo fare gli interessi cittadini, non l'interesse del governo.